Grazie a tutti. La rimanenza me l'hai mandata, giusto? Portate il messaggio, no? Rutta il c***o. Va bene? Ti aspetto. O sai dove sono? In Costa d'Avorio. Costa d'Avorio. Ciao. Geramente, 100 euro non li perdo. Il corriere che corriere è? No, no, diciamo, è un privato, è una copreria privata. No, no, no. Devi smettere con telefonate. Io gli ho dato 150 euro, non per farmi un casino alle 11 di notte. Dice a tuo amico che sta carabinieri che lo cerca. Ho detto l'annuncio. Ho detto l'annuncio. Grazie a tutti. Grazie a tutti